Mercoledì 8 settembre, nuovo appuntamento con Quilicata Tg, benvenuti. La raccolta differenziata a Licata, avviata ormai da tre settimane, sta funzionando. I risultati nei quartieri pilota, che sono Fiume Vecchio ed ex Montecatini, sono incoraggianti per il Comune, che adesso è pronto a aumentare il numero delle zone in cui raccoglie i rifiuti in maniera differenziata. La prossima zona sarà Via Palma Nord. Abbiamo intervistato il Vice Sindaco Antonio Montana, che ha la Delega dei Servizi Ambientali, che fa un bilancio del servizio e rivolge un appello a tutti i ricatesi. Vediamo l'intervista. Dopo il ferragosto abbiamo fatto partire questo progetto pilota in questi due quartieri. I quartieri hanno sorprendentemente risposto, e con mio grande piacere, risposto anche bene. Costantemente il numero di mastelli che vengono esposti aumenta di settimana in settimana e la gente si sta abituando. Il nostro obiettivo è coprire tutta Licata. È chiaro che i cittadini ci devono dare una mano, perché chi è sfornito di mastelli deve recarsi al centro di distribuzione che è presso la palestra peritore, esibendo esclusivamente la tessera sanitaria e potrà ritirare comodamente i mastelli. Noi faremo anche nelle zone che dovranno partire, la zona nord di Via Palma partirà a breve, stiamo distribuendo il porta a porta e quindi invito i cittadini che sono residenti lì a essere disponibili al ritiro anche porta a porta. È un servizio in più, perché solitamente la distribuzione doveva avvenire solo tramite il centro di distribuzione. Ma ve li portiamo fino a casa proprio per incoraggiarvi a continuare, prendendo esempio anche dai quartieri che si è avviata. I numeri sono sorprendenti e questo ci fa ben sperare che, pian piano e negli altri quartieri si potrà arrivare a fare la differenziata. E abbiamo come sempre la pagina dedicata al Covid-19. Le notizie anche oggi che riguardano Ricata non sono buone, perché il numero dei nuovi contagiati supera abbondantemente, purtroppo, quello dei guariti. Secondo quanto annunciato dalla Polizia Municipale, sono 13 le persone che hanno contratto il virus nelle ultime ore e ora si trovano in isolamento obbligatorio nelle proprie abitazioni. Mentre invece i guariti sono 7. Sulla scorta di questi numeri, che arrivano, come sapete, dalla comunicazione ufficiale dell'ASP di Agrigento, attualmente allicata il numero complessivo di persone in isolamento obbligatorio perché alle prese col Covid-19 è pari a 213. Rimaniamo in tema. L'ASP di Agrigento ha annunciato che anche nel prossimo fine settimana ci sarà l'iniziativa Lab a casa tua. In pratica nel weekend sarà possibile vaccinarsi nei centri cittadini e nelle scuole. L'11 e 12 settembre ad Agrigento, presso l'Info Point di Porta di Ponte, quindi nel cuore del centro storico di Agrigento, dalle 9 alle 23 ininterrottamente ci sarà la possibilità di vaccinarsi e sarà presente anche un'equip medica abitualmente presente al Palacongressi di Agrigento dove c'è lo storico hub vaccinale di Agrigento Città. Poi invece domenica la vaccinazione avrà luogo anche in alcune scuole superiori della Città dei Templi. Cambiamo argomento. È stato uno dei primi speaker radiofonici allicata e uno dei volti più noti di Televideofaro, l'emittente che operava in città qualche anno fa. Angelo Marrali da 30 anni ormai vive nel nord Italia ma qui a Licata torna ogni volta che può. L'abbiamo intervistato, abbiamo fatto una chiacchierata con lui, gli abbiamo chiesto che cosa pensa di Licata, che suggerimenti può dare per migliorare la città e cosa pensa rispetto al mutamento dell'informazione da 30 anni fa quando lui era uno dei protagonisti a ora. Vediamo l'intervista. Scopri tutta la bontà dell'autentica pasticceria siciliana da Artigian Creme, una dolce coccola da regalare e regalarsi. Artigian Creme, passione e gusto, dal 1986. Licata per me è sempre la mia città, anche se una persona abita fuori per tanto tempo, tanti anni, diciamo che il cuore rimane sempre qua, questa è una cosa importante. E mi piace sempre tornare, anche se la trovo sempre diversa Licata. C'è un'idea che parte anche dalla tua esperienza nel nord Italia, dove abiti da 30 anni più o meno, che esporteresti qui? Io abito a Imola, una città di 100.000 abitanti, una città a misura d'uomo. Ti dicevo prima che lo specchio di una città è i vigili urbani. Sembra una cosa banale, però un corpo di polizia municipale è importante perché le persone sanno che se sbagliano vengono punite, quindi fanno le cose in regola, perfette. Quindi esorto a questa cosa perché è importante sapere che ci sono delle persone che vigono su di te e se sbagli comunque sai che devi pagare. Ma Giorno, che differenza trovi tra l'informazione di 30 anni fa quando eri tua Licata e quella attuale? Com'è cambiato? Ma è tutto cambiato, adesso con i social è molto più semplice, però io preferisco la tv di un tempo. Con Videofaro, per esempio, negli anni 90, io credo che abbiamo lasciato una traccia perché le persone si rivolgevano a noi per risolvere i problemi. Anche una semplice cosa, non so, una strada, una lampadina che non andava. Si rivolgevano alla tv e con l'informazione riuscivamo, riuscivamo ad accontentarli. Poi le persone si vedevano in tv. Era una cosa nuova, diversa, però efficace. La cronaca, nella tarda mattinata di oggi sulla strada 640, conosciuta come la strada degli iscrittori che collega Grigetto a Caltanissetta, c'è stato un grave incidente stradale, uno scontro tra due furgoni con due feriti e uno di questi è di Ravanusa. Si tratta di un autotrasportatore di 45 anni che è stato trasferito in codice giallo nell'ospedale Santeria di Caltanissetta dove è ricoverato in gravi condizioni. Condizioni gravi anche per l'altro ferito, il conducente dell'altro furgone, è un catanese di 41 anni, anche lui in gravi condizioni. Cambiamo argomento decisamente. Raccontano Licata le diapositive che da ieri sera sono in mostra nei rifugi antiaereo di Via Marconi a due passi del centro storico di Licata. L'iniziativa è della Procivis che ha voluto organizzare questa rassegna che sarà aperta per tutto il mese di settembre per far conoscere aspetti antichi, aspetti moderni, contemporanei della nostra città grazie alle foto e al tempo stesso raccogliere i fondi necessari per acquistare e per rinnovare l'assicurazione del pick-up, dell'automezzo con il quale la Procivis presta servizio ogni volta che occorre. Abbiamo intervistato Aldo Profeta Presidente della Procivis. Vediamo. Metti in moto i tuoi sogni con AutoDNA Ti aspettiamo nel nuovo showroom con la più ampia scelta di vetture multimarca AutoDNA a Licata in Via Gela 318 Questa mostra racconta un po' tramite le diapositive fatte da tanti licatesi che ci hanno collaborato racconta proprio per diapositive un po' di Licata. Alcune come quelle di Angelo Bellavia ci raccontano Licata di una volta quindi la donna che fa il bucato i vecchi mestieri ed altro altri spazi invece sono dedicati a personaggi di licatesi ragazze, principalmente ragazze licatesi che sono un vando per Licata Teresa la cognata di Liberto la mostra fa parte di un progetto della delegazione Cerswop che vuole valorizzare in tutte le città i beni comuni Poi c'è anche un'altra finalità che è quella di raccogliere dei fondi per pagare l'assicurazione del vostro pick up Sì, noi grazie a questo progetto e alla generosità dell'Icatesi che hanno sempre dimostrato vicinanza all'associazione chi visiterà il sito può lasciare una donazione che noi useremo per l'assicurazione del mezzo o se la raccolta va bene anche per l'acquisto di attrezzature che serviranno per le prossime emergenze E siamo giunti alla pagina dello sport il calcio ieri è stata resa nota la composizione del nuovo girone nel quale in SEDD giocherà il Licata Calcio La novità è che quest'anno il campionato sarà a 20 squadre quindi più lungo e che ci sono tante trasferte oltre lo stretto Per quanto riguarda gli impegni ufficiali del Giallo Blu il primo è il 22 settembre quando il Licata affronterà nella prima gara di Coppa Italia la vincente tra Troina e San Cataldese Abbiamo fatto il punto della situazione compreso un commento sul campionato ormai alle porte con Pippo Romano allenatore del Licata Calcio Vediamo l'intervista Ci sono cinque campane calabresi la novità è che siamo in venti il girone è tosto come è stato sempre negli anni precedenti sarà un bel campionato sicuramente Amichevoli tre amichevoli giocate hanno due indicazioni positive è una squadra che segna tanto certo il valore dell'avversario è quello che fino ad ora non sono squadre di categoria inferiore però mi pare che le indicazioni che arrivano non sono malvagie No, c'è grande disponibilità del gruppo al lavoro alle indicazioni è chiaro che siamo una squadra quasi tutta nuova bisogna conoscersi bene bisogna conoscersi meglio anche nel quello che io voglio i ragazzi si stanno applicando in maniera egregia sono molto contento perché lavorano con serietà e professionalità A breve si fa sul serio il 22 settembre prima gara di Coppa Italia con la vingente tra San Cataldese e Troina come arriverà in Licata a questo primo impegno della stagione? Sicuramente ci arriverà bene nel senso che in questi giorni abbiamo lavorato abbiamo lavorato bene il problema è che abbiamo così strittato questa Coppa Italia in una infra settimanale sicuramente non giova perché poi si fanno tre partite in una settimana viene a mancare anche il lavoro settimanale però è successo questo c'è questo lo mettiamo in pratica perché è giusto così hanno deciso così e si farà così e noi ci faremo sicuramente trovare pronti a questo evento Ecco l'intervista a Pippo Romano si chiude qui l'appuntamento odierno con Quilicata DG grazie per essere stati con noi ci vediamo venerdì a presto grazie a tutti Grazie a tutti.